In Sicilia sono oltre 100 le zone rosse e già questo dato fa comprendere quanto la situazione sia difficile e allarmante. Le statistiche poi danno un ulteriore segnale preoccupante. Nella settimana dal 7 al 13 aprile sono stati registrati 506 casi di positività al coronavirus per 100.000 abitanti, ovvero il più 9,3% rispetto alla settimana precedente. L'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti è contenuto in un report della Fondazione Gimbe. Restano comunque sotto la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti covid nelle aree mediche e nelle terapie intensive. Pubblicati anche i dati sulle vaccinazioni sulla percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è il 6,5% in Sicilia, leggermente inferiore alla media nazionale del 6,8%. La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo è pari al 36,1% dato più basso rispetto al 43,9% dell'intero paese. Nella fascia di età compresa fra i 70 e 79 anni che ha completato il ciclo è il 5,4% dei siciliani e in questo caso la media è superiore a quella nazionale, ferma al 3%. Grazie a tutti.